13 febbraio scorso, con Roma sotto una tormenta di neve, per circolare serviva una Jeep e Franco Fiorito se l'è comprata. 35.000 euro che, secondo il Jeep che ha arrestato Batman, venivano dai fondi del gruppo regionale del PDL. Con i soldi pubblici Fiorito avrebbe comprato anche una caldaia per la villa al Circeo, una spesa da poche centinaia di euro, ma il sospetto è che con gli stessi soldi abbia comprato proprio tutta la villa, costo 800.000 euro. Quando i finanzieri si sono presentati questa mattina nella sua casa dei Parioli, Fiorito era alla finestra ad aspettarli, tranquillo, tanto da scherzare con i giornalisti. L'impegno più importante per ora si chiama Regina Celi, il carcere dove il Jeep lo ha fatto rinchiudere per pericolo di fuga, rischio di retirazione del reato e inquinamento delle prove. L'ex capogruppo PDL alla regione è accusato di essersi appropriato di 1.300.000 euro di fondi pubblici. Attraverso un uso smodato di Bancomat, carte di credito, assegni gli sostiene il Jeep, ma soprattutto attraverso i 193 bonifici che ha Fiorito vengono contestati. Lui si dice innocente, ribadisce che chiarirà tutto e spiega che in carcere troverà persone migliori di quelle che ultimamente ha frequentato nel suo partito il PDL e in regione. E mentre a Roma l'inchiesta sui fondi ai partiti segnava la sua svolta, a Bologna la Guardia di Finanza si presentava nella sede del Consiglio regionale a caccia dei documenti sui rimborsi di tutti i gruppi consigliari sugli anni 2011-2012 e quelli relativi alla passata legislatura. E così quella che era solo un'indagine conoscitiva della Procura di Bologna è diventata un'inchiesta per peculato, anche se per ora senza indagati. Altro Consiglio regionale, quello della Lombardia. Questa mattina Filippo Penati, l'ex sindaco di Sesto San Giovanni, ex esponente del PD per cui ieri è stato chiesto rinvio a giudizio per corruzione, a chi gli chiedeva se avesse intenzione di dimettersi dalla carica di consigliere al risposto, io sono qui e aspetto il processo.